Il progetto della piattaforma nasce da un Kinder Cereali, perché alla fine è stato il motivo per cui abbiamo iniziato a conversare, a parlare di alimentazione, sport, benessere. Faccio ormai questo lavoro da 17 anni e ho iniziato quando ne avevo 18. Dopo 17 anni mi sono resa conto di quello che funziona veramente e quello che non funziona. Creare un imbuto, un bacino di professionisti legati al benessere e lei mi ha detto ma perché non facciamo questa cosa insieme? La base per creare tutto io effettivamente non ce l'avevo, invece lei è un caterpillar, vero? Siamo riusciti a creare una piattaforma in otto mesi. In questi otto mesi abbiamo costruito un team, un team di persone che hanno lavorato alla piattaforma e un team di professionisti che sono i veri protagonisti della piattaforma. Partiamo dal fitness, dove troviamo pilates, yoga, workout, alimentazione con una dietologa e anche una parte in cucina con una nutrition coach, una parte beauty di make up e di face fitness. Face fitness, ci tengo a puntualizzarlo, è una disciplina che ancora si conosce poco, ma ha degli effetti immediati sul viso, perché una allena sempre gambe, glutei, braccia, ma qui siamo pieni di muscoli. Io l'ho provato, l'ho fatto un mese, perché poi tutti i corsi che troverete, la prima di averli provati sono stata io, insieme a lei, ma più io su questo. I muscoli che abbiamo nel corpo sono 752 e da qui nasce il nome della nostra piattaforma. L'obiettivo della piattaforma, partiamo proprio dal nome, quindi 752 Wellstar, sono i muscoli che abbiamo nel corpo che sono da allenare per raggiungere il Wellstar, che come diciamo sempre io e Francesca, per noi non è la perfezione, ma è stare bene nella mente e nel fisico. Non ha senso raggiungere la perfezione, però lo star bene, quindi non affaticare nemmeno troppo il tuo corpo, ma aiutarlo, aiutarlo appunto a tenersi in forma, anche attraverso la meditazione, anche attraverso la mente, perché alla fine la mente e il corpo sono insieme. Abbiamo tanti modelli oggi in televisione, sui social, dei modelli un po' troppo perfetti, ma la perfezione nel senso al millimetro non ci appartiene, non ci interessa nemmeno forse. Ecco perché è Wellstar. In alcuni video ci alleneremo insieme e oltretutto potete personalizzare il vostro allenamento in base al tempo che avete a disposizione quotidianamente e in base anche al vostro livello di preparazione, intermedio, beginner, advanced. E quindi ci alleniamo insieme.